Io ne ho abbastanza. Non voglio seguire il suo sogno e neanche restare sotto la sua ombra. Che sia la squadra dei falchi a sferrare l'attacco decisivo a Dol Drain! Primo battaglione! Carica! Sia, accetto la sfida! Le forze nemiche ormai sono in ginocchio. Tornerò con dei rinforzi, quindi resisti! Non morire! Se sopravvivrete, la vittoria sarà nostra! Quanto ancora è disposto a spingersi pur di raggiungere il suo obiettivo? E dopo, quali altre ambizioni avrà? Tu, per cosa combatti? Perchè? Vivere senza alcun obiettivo da quando si è nati, per me è un'esistenza che non ha ragione di essere. Perchè? 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 E' un'esistenza che non ci sia la seconda scena! Perchè? Un'esistenza che non ci sia la squadra! Un'esistenza che non ci sia la squadra! Grazie.